Due rivali di una vita, Benvenuti e Mazzinghi. Non si parlavano, a 80 anni hanno deciso di fare la pace. Perché? Perché Benvenuti è stato ricoverato qualche giorno fa al politico di Tor Vergata per un malore. Perché sembrava più grave di quello che poi in realtà non sia stato, perché ha bisogno di un intervento alla colicisti, quella che chiamiamo cistifelia in termini meno medici. Però questo ha mosso Mazzinghi, Sandro Mazzinghi. Allora, voi pensate, vi rivelo una cosa che è meravigliosa. Quando io avevo 15 anni, per vedere l'incontro, siccome ero un appassionato di Pugilato, oltre che frequentare Santi Nicchi per fare a Cazzotti, ero un appassionato di Pugilato, andai a vedere un incontro mondiale a Roma, a 15 anni, da solo, che era Benvenuti contro Monzon, mi sembra. E, pensate, partì da casa, presi il treno, andai al palazzetto dello Sport di Roma, vedi l'incontro di Pugilato e tornai a casa esaltato da questa cosa. Ora, se un ragazzino di 15 anni decide oggi di andare a Roma a vedere un incontro di Pugilato, viene violentato se gli va bene appena arriva a Roma, ma se no un par di volte durante il viaggio. Poi, appena sceso alla Termini, viene derubato, dopodiché lo ritrovano in due trolli a Tor Vergato, Tor Pignattara, dopo quattro giorni, senza aver potuto vedere un incontro. Bene, vedete quanto sono cambiati i tempi? Ma gli antichi campioni lasciano da parte la rivalità e tornano a fare la pace, perché vi ricordo che oltre la pace c'è lo scopetone. Prima c'è Fonte del Sarab.